Le eccellenze delle scuole toscane si mettono in mostra didacta all'evento sulla scuola più importante a livello nazionale alla fortezza da basso di Firenze dal 18 al 20 ottobre. Allo stand della regione toscana, allestito con il contributo del Fondo Sociale Europeo, tanti eventi, dal focus con le regioni su orientamento e dispersione scolastica alla formazione dei futuri insegnanti. Luci puntate su professionali alberghieri e il 19 ottobre, con testimoni all'incantante toscano Lorenzo Baglioni, l'evento annuale del Fondo Sociale Europeo. È l'occasione per far vedere le tante cose belle che fanno le nostre scuole con naturalmente il coordinamento e i finanziamenti e tutta la parte che riguarda il ministero e l'ufficio scolastico regionale della Toscana ma anche con le politiche che regione toscana mette in atto perché insomma come diciamo sempre per noi la scuola, l'istruzione, la formazione, l'educazione in generale rappresentano assolutamente una priorità per il governo regionale. Allo stand della regione toscana tutte le informazioni sui percorsi formativi di istruzione tecnica superiore ITS, sulle opportunità di garanzia giovani, trio e giovani sì, con una novità, lo spazio di Arti, la nuova agenzia regionale toscana per l'impiego e l'opportunità di svolgere l'alternanza scuola-lavoro nei centri per l'impiego. Abbiamo intenzione di fare sei slot di mezza giornata in cui potremo rappresentare le eccellenze che producono le scuole della Toscana e quindi andremo dalla rete della robotica che ha dei belli progetti, agli istituti d'arti che sviluppano la ceramica e tutta l'attività artistica, all'istituto Margaritone di Arezzo che è l'unico settore professionale che cura l'attività degli orafi. A Didacta sono attesi oltre 1300 insegnanti che parteciperanno ai 25 seminari e agli eventi in programma nei tre giorni alla Fortezza da Basso.